Il bilancio sicuramente positivo, avendo finito il campionato per metà giugno abbiamo dovuto riprendere in mano un po' tutta la preparazione fisico-atletica, abbiamo fatto un grande lavoro di 10 giorni a Formia nel centro di preparazione olimpica e adesso stiamo preparando la parte tecnico-tattica in questi ultimi giorni da qui all'otto dove esordiremo contro l'Inghilterra. Clima positivissimo, le ragazze sono abbastanza concentrate e fiduciose di che possiamo fare comunque un buon campionato europeo. Esordio contro l'Inghilterra, poi Francia e Olanda, insomma un girone di ferro per l'Italia, quali sono gli obiettivi? Un girone di ferro anche per le altre perché comunque arriviamo tutte e quattro accreditate per i due posti in semifinale. Diciamo che aver evitato Germania e Spagna, come ho detto dopo i sorteggi, è già stato un buon risultato, essendo le due squadre che negli ultimi anni a livello giovanile hanno accumulato più vittorie. Il nostro è un girone sicuramente complicato, saranno tre finali, valiamo tutte e quattro le squadre sullo stesso liello, forse l'Inghilterra ha qualcosa dal punto di vista fisico più importante, cercheremo di colmarlo con la nostra tecnica e soprattutto con i nostri accorgimenti tattici perché ci basiamo molto sulle interpretazioni del gioco, quindi questo è importante. L'Inghilterra proprio all'esordio, l'Inghilterra che ci ha sconfitti qualche mese fa, però diceva che sono passati dei mesi e la squadra adesso è pronta. Sono tornei di preparazione che si fanno intorno al periodo di marzo, sono tornei internazionali dove le squadre naturalmente noi stessi si fanno delle prove, sono delle partite che ci servono per valutare meglio alcune situazioni, ci sono servite per passare il secondo turno, abbiamo fatto una grande esperienza in quella circostanza, ci sconfissero per 4-0, ma sarà sicuramente un'altra partita e sarà sicuramente un'altra squadra, l'Italia quella che affronterà l'Inghilterra all'otto a Belfast. Le prime quattro accederanno alla fase finale del Mondiale Under 20, questo è quindi l'obiettivo minimo o l'obiettivo principale della nazionale? Se dobbiamo fare un esame razionale è l'obiettivo massimo perché accedere comunque per noi a un campionato del mondo con numeri rispetto alle altre federazioni europee, con numeri un po' più esigui, naturalmente sarebbe un grandissimo obiettivo. Però la storia ci insegna che a livello giovanile tutto è possibile, quindi partiamo per raggiungere la qualificazione al Mondiale e poi quello che verrà, verrà. Già in Under 17 nel 2014 partimmo senza grandi speranze, conquistammo una medaglia di bronzo all'Europeo e arriviamo addirittura a una medaglia di bronzo al Mondiale. Chissà che magari il gruppo è pressoché lo stesso e riescono a fare anche la stessa impresa in Under 19. Grazie a tutti!